Tutto taggato VGF, ovviamente siamo al completo, nessuno ha paura e siamo tutti pronti ad affrontare le grandi avventure che ci aspettano qui. Oddio sì, un canguro, ho sempre sognato di vivere nel marsupio di un canguro, fammi entrare piccolino, sì, fammi entrare nel tuo marsupiello. Lascia in pace quel canguro, il marsupio, sì sì sì, il marsupio, sì sì sì, allora nel tuo di marsupio mettici ste bacche, ne ho trovato qualcuno, ho trovato anche un paio di cipolle. Uh, le cipolle, sì, il marsupio, c'è un botto di roba in giro, era quello che poteva servirmi, ti ringrazio molto, quando si inizia una nuova avventura è importante sempre farlo a stomaco pieno, è proprio la prima regola. Bravo, io ti ho portato dei miei doni per te, guarda qua, ho scavato poco poco, leggermente. Guarda, grazie, grazie, un pochino di ferro, pietra, guarda, è bello avere degli amici comunque, anche potersi fidare di loro. Anche io sono un amico fidato, guarda un po', ti ho preso già del legno, però è pochissimo quasi. Va bene, va bene, va bene, l'importante, stiamo appena iniziando, quindi già è bellissimo avere questi vostri regali, io vi ringrazio di cuore, ora mi faccio gli utensili. Ne ho anche io dei regali, aspettami. E qui, oh mio Dio, una mandria di emu, ma questo è cibo gratis. Ma queste sono le gazzelle, che temu, gli emu sono struzzi. Ragazzi, datevi alla pazza gioia, ammazziamole tutte. Sì, ci mettiamole tutti. Non esagerare però. Siamo pur sempre dei leoni. Uh, questo è un emu. Toh, toh. Toh, ragazzi, arrabbiate. Ah, cocavino. Vieni, 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 vieni. No. Aiuto. Lion. Raga, colpitelo, però fate qualcosa. Ti diamo la mano. Vai, qua. No, no, adesso, 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 adesso venite tutti qui. Stai bene, cattivisti, mi aiuto. Adesso stai zitto. C'è un emu che mi pedicchiava. Stai, non parlare mai più. In mia presenza. Ma questo chi è, oh? Ma col... No, no, adesso io vi ammazzo. Venite qui. No, aspetta. Venite qui, stai zitto. Ma perché venite mi ammazzare? Non chiantare. Zitto. Io stavo essendo mangiato da molteplici creature. Tu, che non fiaterai, non hai aiutato neanche per idea. Io ti ammazzo. Posso? No, non puoi, no, no. Ha una scusa importante. Non mi interessa. Chiedo perdono. Mario, vai. Sto andando. Sto andando. Vai, 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 vai. Stanno tutti qua, non stavi a tirare niente. Ok, non è stata una buona idea. Mario è morto. Mario è morto. Ok, allora io sto cercando di seccare. Meno male che era l'uomo partita comunque, eh. Meno male. Io li uccido, quelli incastrati li uccido. Ok. Ti do una mano anch'io, li uccidiamo di qua. Ok, vai, voi salite dall'altra, li sto decimando, ne rimangono molti meno. Ok, arriviamo, arriviamo. Però menano di brutto, menano proprio. Ma sono tantissimi. Sono degli orbi, eh, ragazzi, questi qui praticamente. Danno delle mazzate veramente fenomenali. Se non troviamo lo spawner, io ho paura. Io sto andando sopra, sto rompendo lo spawner. Bravo, io li sto distruggendo tutti, vai. Vai. Ma sto sparando tantissimi. Questa è una partita. Vai, sto, sto merando. Vai, Alex, mena. No, amici, non ce la faccio. Ok, sì, forse sì. Non fermarti, non fermarti. L'ho rotto, l'ho rotto, amici, l'ho rotto. Bravissimo. Grandissimo. Hai recuperato punti nei miei confronti. Bravo. Tanti erano, sono avuto molta paura. Abbiamo preso un sacco di cose, tra cui anche le loro asce della rettitudine, che sono... Ma io ne ho presi delle altre. Sono molto buone rispetto alle nostre agli. Vedi agli una per combattere. Grazie.